Per un minuto di Storia con Mario oggi parliamo di dittatori europei perché vediamo un po' se indovinate. Dittatori europei, vi vengono in mente dittatori del Novecento in Europa, sicuramente Mussolini, sicuramente Hitler, vi verrà in mente Francisco Franco. Ebbene, pensate che un dittatore che è stato in carica dal 1932 al 1968 moriva il 27 luglio 1970. Basta coi quiz, è il dittatore portoghese Salazar, adesso vi è venuto in mente quest'altro dittatore del Novecento, che viene poco considerato nella storiografia. Non mi viene in mente subito parlando dei dittatori europei del Novecento, eppure è quello che è durato di più. 36 anni consecutivi è morto però senza essere più primo ministro.